Questa piccola è una gallina a primutrock, è sempre appartenente alla specie gallus gallus, dell'ordine legale formi, e della famiglia di fascianidi, come le pernici. Finite andare a letto con le galline, perché le galline vanno a letto subito, avrò dovuto comprare una primutrock. Queste galline invece sono delle livornesi, livornesi bianche.